Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su P-Quad Oggi facciamo un unboxing Uno di quelli belli, fighi, indipendenti E... E tanta roba Ecco il pacco Leviathan Labs Con tanto di logo Leviatano Bello, quello che c'è anche nella spilletta Vediamolo insieme Io già l'ho aperto il pacco, giusto per vedere cosa c'era Ora ovviamente Eccolo qua C'è tanta roba Sono tanti fumetti, più di 10 Buon prezzo E quindi grazie ai ragazzi di Leviathan Labs Per avermeli mandati Ora li vediamo insieme Parliamo dei fumetti di Leviathan Labs Per chi non la conoscesse Questa casa editrice, indipendente, giovane, figa, bella, intraprendente Tutto quello che volete E fa tanta bella roba a fumetti Io ho già letto due fumetti loro Due graphic novel Ovvero Foglie Rosse e Vietnam Horror Vi lascio i link in descrizione Ho nelle schede delle recensioni che ho fatto E in più vi lascio in descrizione Lo dico subito altrimenti poi ci dimentichiamo Il link al catalogo per vedere tutti i fumetti che vi faccio appunto gustare oggi Vediamoli insieme Anzi prima di vederli insieme nel dettaglio Vi faccio vedere velocemente la mole di fumetti Che ciò che mi è arrivata che pesa anche tanto Eccola qua Sono più di dieci fumetti Per un buon valore economico Tanta roba Eccola qua Questi qua Oltretutto ci sono anche degli spillati stile americano Che i ragazzi hanno fatto Hanno lanciato Ve ne parlo dopo Che si chiama appunto Leviathan Verse Su dei personaggi molto fighi Ma ne parliamo in dettaglio Mi hanno mandato anche questa La spilla Molto bella Li guardiamo in dettaglio Seguitemi Iniziamo dalla spilla Molto bella Bianco e nero Classico Molto carina Passiamo a questo adesivo con calamita Bello All Hail Leviathan Labs Passiamo allo sticker adesivo Satanic Party Heart Bello Questo lo metterò nel taccuino dei fumetti E poi al sottobicchiere Anzi sotto birrozza Che è questo qui Molto molto bello Questi gadget che mi hanno inviato insieme ai fumetti Che ora guarderemo in dettaglio Spostiamo tutto E iniziamo con Dark Frontier Allora ragazzi Ovviamente li faccio vedere velocemente Perché sono tanti E non vorrei che il video durasse un'infinità Questo è un graphic novel Quanto meno i crediti Storia di Massimo Rossi Massimo Rossi è il fondatore di Leviathan Labs Uno dei maggiori sceneggiatori più poliedrici Di lui ho letto appunto Poi ovviamente Poi ovviamente su ognuno di essi che leggerò Oltre a portarli sul canale Molto probabilmente ci farò anche delle recensioni Sul magazine UBC Fumetti Dove scrivo solitamente Oltre appunto al canale YouTube Questo è Black Grid Noir Anthology Qua abbiamo diversi autori e disegnatori Che appunto ci cimentano in questa antologia del noir Che devo dire mi incuriosisce molto E abbiamo Abbiamo Le storie appunto di Simone Guglielmini E sono diverse Tra cui Marco Pieruggini L'abbiamo incontrato sempre sul canale Con quella bellissima opera Che è appunto Il mostro di Firenze Edito da Green Moon Comics Trovate il video anche sul canale Vediamo alcuni disegni di questa antologia Che secondo me merita Le antologie sono sempre belle In questo caso abbiamo il genere noir Che non è male Anzi vi ricordo Tra le antologie sul noir Anche Un'opera Scritta da Emiliano Longobardi Con 50 disegnatori All'attivo Che è Rusty Dogs Se vi va vedetela Perché secondo me Secondo me merita anche molto Ed è giusto anche citarla In questo caso Trovate l'intervista di Emiliano Anche sul canale La cosa bella di Leviathan Labs È che alla fine di ogni fumetto Inserisce dei bozzetti Delle sketch gallery Che secondo me sono Un tassello in più Alla bella Curatela che fanno Sulle impaginazioni Dei loro fumetti Secondo me molto meritevole Questo era appunto Black Grid Qui abbiamo Gaijin Salamander Di Massimo Erosi Ludovica Ceregatti E Renato Stevanato Salamander Salamander Questo non lo conoscevo Mi è nuovo Mamma che bella questa tavola Cioè queste tavole sono Belle Queste vignette Questo stile Orizzontale Belli colori Mi incuriosisce molto Massimo Erosi Devo dire che Lo trova abbastanza Polietrico Nei suoi modi Di scrittura Perché passa Dall'horror Al drammatico Al noir Quindi Grande personaggio E devo dire Che stanno facendo Un sacco Un sacco di cose belle Con la Leviathan Labs Perché ora Vi faccio vedere Il progetto anche Di Leviathan Verse Che merita molto E oltretutto In questi tempi In cui registro il video C'è anche il progetto giallo Che sta andando bene E che vi consiglio Di visitare Bello Anche qui Come vedete C'è una sketch gallery Alla fine Del fumetto Ma non vi svelo troppo Per non Dirvi Tanto Vi ricordo Che in link In descrizione Vi lascio Il catalogo Sul sito Dove potete trovare Tutti i fumetti Di Leviathan Labs Per chi fosse interessato Vi consiglio di farlo Il Leviathan Verse Ecco qua Abbiamo tre Tre personaggi Con Due Albi A personaggio Quindi rispettivamente Sei personaggi Cos'è il Leviathan Verse? Il Leviathan Verse Non è altro che Una Rivicitazione Contemporanea Di personaggi Di pubblico dominio Anzi Di supereroi Che ormai Sono diventati Di pubblico dominio E riscritti E reinterpretati Appunto Da In questo caso Da Leviathan Labs E da chi ne scrive E da chi appunto Ne vi segna Abbiamo Barron Savage The Black Bath E Iron Ace Ogni Personaggio Vedete Leviathan Labs Scrive Creato da Edward Page Mitchell Che fece la sua Prima apparizione Su The Oblest Man In The World Nel New York Sun Nel maggio Del 1879 Anzi Vediamo prima Bread Savage Ok Qualche disegno Queste sono le due copertine La prima E la seconda Rosie Mendoza Rodriguez Mayer Che curano Rispettivamente Testi Disegni Chine Colori Vediamo Qualche disegno Qualche tavola Lo stile È quello Dello spillato No Comics americano Molto carino Molto carino Devo dire Ben fatto Come sempre L'impaginazione Di Leviathan Labs E meritano Meritano Guardate che belli Questi disegni Velocemente Anche il numero 2 Giusto per mettervi Un po' di curiosità Non vedo l'ora Di leggerli Di leggerli E di goderli Passiamo a The Black Bat Anche qui Guardiamo velocemente I disegni Che bella Anche qui Leggiamo Che il personaggio È creato Da Norman A. Daniels E fece La sua prima apparizione Su Black Book Detective Nel luglio Del 1939 E questa è la trasposizione A cura di Leviathan Labs Questi supereroi Quasi dimenticati Che ormai Sono di dominio pubblico A quanto pare E questa è una trasposizione Appunto Dei ragazzi Leviatani Iron Ace Anche qui Due volumi Anche se li vedo Più cicciotti Come Spillati Forse sono qualche Numero in più E forse questo è stato Il primo Ad uscire Ora non vorrei dire 480 Li trovate ovviamente Sul catalogo Di Leviathan Labs Rosy Pilato Gulma Meyer Anche qui Vediamo Che il personaggio È stato creato Da Fred Kida Originariamente Apparso Pubblicato Dalla Hillman E fece La sua prima apparizione Su High Fighters Comics Number 2 Nel 1942 Bella Questa prima Vignetta Di questo Supereroe Che svola Nello spazio Vi dico Vi ricordo Ancora Non gli ho letti Quindi li sto godendo Per ora Attraverso le prime Impressioni Soprattutto per i disegni E poi li porterò Sul canale In maniera Più dettagliata E Anche con Una recensione Velocemente Andiamo anche Su altri Fumetti Cambiamo Genere Qui abbiamo Street Angel Di Jim Rugg E Brian Maruca Questa sicuramente È una Versione Di Leviathan Labs Che viene tradotta In Italia Che belle Queste tavole Abbiamo stili Ovviamente Differenti Questo è uno dei Fumetti Non prodotti Immagino Dalla Leviathan Labs Ma tradotti In Italia Dalla Leviathan Labs Sì infatti Il prodotto Esce per Image La casa editrice Americana Statunitense Iscritto da Jim Rugg E Brian Maruca Disegnato e colorato Da Jim Rugg Stesso Bella 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 Bei disegni Che mi ricordano Che bello Molto 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 Retro Crack Che meraviglia Fumetti Ragazzi Non c'è niente Da fare Passiamo Da un genere All'altro Con queste Meravigliose Tavole Beh Guardate Cioè Che stili Differenti Come scrivere Un fumetto The Street Angel Gang No Vabbè Meraviglia Grazie Ragazzi Di Leviathan Labs Per questi fumetti Perché Me li godrò Appieno Tutti Poi abbiamo Ezekiel Aymes Cacciatore Di zombie Piccolino Sembra quasi Un formato Audace Bonelli Classico Piccolino Con questa copertina Con le alette Molto carina E Uno zombie A me piace tantissimo Il panorama Zombie E questo Arricchisce La mia collezione Dei fumetti A tema zombie E il tratto Seppiato Monocromatico Lo rende ancora più Singolare E diverso Degli altri E carino Carino come disegno E poi ovviamente Devo leggerlo ancora Sono le prime impressioni Che vi do Di Victor Santos E Alberto Hernandez Devo capire solo se questa è una produzione Leviatana Oppure è stato tradotto in Italia Per Dall'Evitan Labs Non capisco Pubblicato in Italia Dall'Evitan Labs Sì Quindi questa è parte Dei prodotti appunto Tradotti Dall'Evitan Labs Stanno facendo un gran lavoro I ragazzi Lo ripeto sempre Ma perché ne vale la pena Poi abbiamo La serie Dei Barbarian Kings Io ho I primi tre volumi Vediamo giusto Uno Velocemente Nei disegni Questo progetto Mi manca da scoprire Siamo ovviamente In un Genere fantasy Quindi come avete visto Stiamo esplorando Diversi generi Che cura E che tratta Questa casa editrice Beh le tavole non sono male Ovviamente vi deve piacere il genere Anche fantasy Altrimenti Me ne facciamo molto E poi Uno Un altro diverso Un altro prodotto Tradotto in Italia Dall'Evitan Labs La mano del destino Pubblicato negli Stati Uniti Da Kestel E K Publication Storie e disegni Di Gonzo Qui abbiamo Un misto di roba A meno dalle prime impressioni Che ho Il classico stile americano Con questi Toni molto Vintage Retro Anche sulla colorazione Sul tratto Sulla tipologia Di impostazione Bellissimi colori Non è uno spillato Abbiamo comunque Questo è un graphic novel Ciccioso Che è molto grosso E Guardate Belli Belli Guardate che bella Questa prospettiva Di questo personaggio Beh Andiamo oltre Altrimenti Mi picchiate Benvenuti Nel mondo Della Lucia Libre Che poi appunto Non so se è proprio Vressler Magari Scusatemi Mi sbaglio Non è il mio genere Ma sarà qualcosa Di diverso E immagino Si Non è Vressler Vressling Però Qualcuno Magari Mi scriva nei commenti Di cosa si tratta Ok Ok E poi l'ultimo L'ultimo E poi vi lascio Giuro Giuro che vi lascio Di Massimo Rosi Alex Nieto Locust Locust Questo è un fumetto Scritto sempre Da Massimo Agliano Rosi Di cui non conosco Quasi nulla Quindi mi Appresto A leggerlo E poi vi Farò un resoconto I disegni Mi piacciono I colori anche Quindi Beh Ragazzi Grazie mille Per questi Fumetti Sono veramente Tanti E come se fosse Natale Per me Grazie 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 Vi consiglio Di guardare Il link In descrizione Perché vi metto Sia le recensioni Già fatte Dei fumetti Levitin Labs Sia 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 Il catalogo Cliccabile Per comprare Questo Ben di Dio Condividete il video Con chi ama Questi fumetti Indipendenti E belli Mettete mi piace E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti